Io ritengo che è stato fatto un punto focale, cioè un punto di vista della situazione, abbiamo fatto una fotografia della situazione con tantissime esperienze, abbiamo voluto dare voce a tantissime persone che lavorano nello specifico nella materia della protezione civile. In questo senso, anche quando abbiamo pensato a questo convegno volevamo molto rivolgersi ai giovani, sono molto contento di aver visto che c'era una partecipazione, io spero che questa sia un'occasione, l'inizio anche di un percorso, poiché c'è la norma nuova, ci sono anche delle leggi nuove che verranno fuori attraverso la regione, ci sono delle convenzioni di cui si è parlato, spero che ci siano novità e quindi credo e penso e spero che si possano fare anche incontri di questo tipo anche calendarizzati, cioè più volte.